Il pubblico radiofonico cresce di età costantemente, quindi dobbiamo pensare che probabilmente l'ascoltatore di Radio DJ o di quello che sarà tra dieci anni, se una volta aveva vent'anni, poi venticinque, poi trenta, in questo momento nella mia testa ne ha trentacinque mediamente, mediamente, tra dieci anni avanti, magari quaranta, se non qualcosa di più, ed è la prima riflessione importante. La seconda è che pian piano cambia la richiesta di profondità in quello che si fa. Il DJ, così un po' vallalotto, che dice la cazzatina che fa ridere, fa semplicemente da vigile urbano, da spartiprafico, tra le varie canzoni, potrà esistere in quelle radio che faranno veramente la tappezzeria, ma nelle radio, come la DJ, che dà molto importanza alla parola, secondo me sarà inevitabile che ci sia un programma vero di informazione, qualcosa un po' più di spessore.